buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli spazi rari e gli spazi rari come sicuramente la maggior parte di voi sanno sono i webinar mensili che organizza mito con per tutte le persone affette da patologie i loro familiari i loro caregiver per incontrarsi confrontarsi con esperti e avere informazioni utili per affrontare il percorso con la malattia stessa vi ringrazio per la vostra partecipazione ringrazio del benvenuto al nostro ospite il professor michelangelo mancuso neurologo professore dell'università di pisa e neurologo al per l'azienda ospedaliera pisana il professor mancuso oggi ci parlerà dei trattamenti per le epilessie in pazienti pediatrici ed adulti vi ricordo che il webinar è registrato e che ehm alla fine dell'intervento del professore ci sarà uno spazio dedicato a considerazioni e domande e la registrazione verrà verrà interrotta e non rubo altro tempo al professor mancuso e lascio la parola benvenute grazie 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 a voi per l'invito vi prego di disattivare i microfoni ok quindi molti di voi può darsi mi abbiano già conosciuto perché da tanti anni collaboro con mito con faccio parte del comitato scientifico di mito con eh sono un po' il coordinatore del network italiano di tutti i centri clinici eh che si occupano della gestione di bambini adulti con malattia mitocondriale l'argomento di oggi è un argomento che in effetti il titolo è un po' un po' forviante cioè eh quando non avevo parlato con mito con avevo detto che l'obiettivo della del seminario del webinar di oggi era quello di fare sì una carrellata in generale sulle epilessie sui trattamenti dell'epilessia eh nei pazienti con malattia mitocondriale ma poi soprattutto eh farvi vedere quello che eh abbiamo cominciato a portare avanti eh in collaborazione anche con mito con ma non solo lo vedremo e che dovrebbe portare nelle prossime settimane alla pubblicazione delle prime linee guida eh europee per la gestione dell'epilessia nei pazienti con malattia mitocondriale uno sforzo epocale a cui hanno lavorato tantissime persone e quindi la diciamo metà della mia relazione era un po' quella di farvi vedere a che punto è questo progetto che forse qualcuno di voi già conosce ma sicuramente affronteremo anche eh l'aspetto un po' più pratico della gestione e sono disposto naturalmente poi alla fine della del del webinar se avete domande provo a vedere se sono in grado di rispondervi ora eh le malattie mitocondriali ahimè le vivete le viviamo quotidianamente quindi eh non serve fare il preambolo eh in questa diapositiva eh volevo solo farvi vedere come effettivamente la frequenza di crisi epilettiche è della sua poi più temibile complicanza che poi è lo stato di male epilettico è un evento che colpisce la maggior parte dei pazienti con malattia mitocondriale si stima infatti che un malato su due un malato su cinque nel corso della propria malattia mitocondriale avranno come eh purtroppo manifestazione clinica di malattia la comparsa delle crisi epilettiche le crisi epilettiche che noi vediamo nei bambini e negli adulti con malattia mitocondriale sono eh estremamente variegate sono praticamente tutti le tipi di epilessia che noi siamo abituati noi neurologi o neuropediatri o pediatri a gestire nel nostro mestiere in in altre malattie in altri contesti nel caso delle malattie mitocondriali purtroppo il più delle volte lo stesso paziente può avere più tipi di crisi epilettiche diverse tutte le forme principali di epilessia sono eh possibili nella malattia mitocondriale forse quelle che noi vediamo meno eh nei pazienti con malattia mitocondriale sono le classiche assenze quelle diciamo tra virgolette più benigne che colpiscono no i bambini in età scolare per cui si assentano qualche secondo ecco le assenze tipiche magari nelle malattie mitocondriali sono poco poco comuni tutto il resto purtroppo delle manifestazioni critiche epilettiche eh sono possibili in questi malati eh di fronte a questo enorme numero per cui vi ricordo fino al cinquanta per cento dei pazienti quindi si parla di tantissimi malati eh come come al solito quando parliamo di medicina mitocondriale eh lo avete eh sperimentato direttamente voi come pazienti o come genitori caregiver di malati con patologia mitocondriale anche quando si parla di epilessia nel mondo delle malattie mitocondriale eh gli specialisti hanno tutta una serie di problemi e ci sono tutta una serie di chiamiamoli elitmi per quanto riguarda l'epilessia nella malattia mitocondriale che ancora oggi mh non è chiaro eh non sono chiari in particolare mh perché alcune proteine alcuni geni mitocondriali se se mutano danno malattia epilessia mentre in altre eh in altre malattie mitocondriali in altri geni mitocondriali mutati l'epilessia non compare quasi mai stiamo parlando sempre di disfunzione del mitocondrio ma in base al gene che noi abbiamo mutato potrò avere l'epilessia come manifestazione clinica oppure potrò non averla mai perché allo stesso modo alcuni fenotipici alcuni quadri clinici di malattia mitocondriale si associano ad epilessia mentre altre altre malattie mitocondriali non danno mai epilessia come manifestazione clinica perché qui soprattutto quando si parla di bambini perché i bambini con deficit del complesso primo della catena respiratoria hanno più spesso epilessia e spesso epilessia anche farmaco resistente di difficile gestione terapeutica quando invece per esempio deficit isolato del complesso terzo a volte può dare solo la miopatia e non darà mai l'epilessia perché questo e anche questo non lo sappiamo così come non solo ci sono geni che si associano ad epilessia ma poi addirittura ci sono altri altre situazioni per cui alcuni geni mutati danno vita a un'epilessia quella che noi chiamiamo purtroppo farmaco resistente ossia pazienti con determinate alterazioni genetiche in cui l'epilessia non risponde ai farmaci tradizionali di primo o di secondo livello e quindi vengono definiti farmaco resistenti perché malgrado la terapia e la politerapia antiepilettica le crisi ritornano e tutto questo probabilmente ha come domanda di partenza la situazione cerebrale i mitocondri stanno dappertutto nei neuroni del cervello ma noi sappiamo che non tutte le aree del cervello nelle malattie mitocondriali si comportano nello stesso modo in termini di epilessia e non sappiamo perché perché in teoria se ho una disfunzione del mitocondrio questo ce l'ho in tutti quanti i lobby del cervello ma alcuni non daranno mai scariche elettriche epilettiche altri tendono a farlo con una elevata frequenza quindi tutta una serie di enigmi di dubbi che capite bene si traducono poi anche nella difficoltà che il medico ha nel gestire la clinica e la terapia dell'epilessia in molti pazienti con malattia mitocondriale. Ora perché la letteratura cosa ha fatto? Cosa fa per poterci aiutare a risolvere questi dubbi ad aumentare le conoscenze? Fondamentalmente per capire di più eh gli studiosi eh a livello internazionale cosa fanno? Fanno gli studi di popolazione cioè prendono centinaia e centinaia di pazienti li caratterizzano nel dettaglio vanno a vedere tutte le loro peculiarità e cercano di dare delle risposte alle domande di prima ma non è sempre facile lo vedremo. Così come eh spenderò qualche minuto per dire che poi ci sono alcuni fenotipi a cui facevo accenno prima alcune manifestazioni di malattia mitocondriale che sono francamente pilettogere cioè in cui l'epilessia è un problema ricorrente e le vedete già qui anticipate la sindrome Mellas, la sindrome Merf e le mutazioni tutte quelle sindrome in cui la l'alterazione gene mutato e il famoso gene Pol G. Queste sono quelle che rappresentano un po' il paradigma dell'epilessia nelle malattie mitocondriali su cui cerchiamo di studiare di più perché se capiamo di più soprattutto in queste sindrome probabilmente troveremo delle risposte e quindi delle armi terapeutiche più incisive e più mirate. La letteratura vi dicevo è importante però come come sempre succede quando tocchiamo il capitolo delle malattie mitocondriali e infatti sapete siamo all'interno della settimana mondiale di sensibilizzazione. Le malattie mitocondriali sono sempre state patologie un po' trascurate e come una delle tante conseguenze di questa scarsa conoscenza di questa pochi investimenti che per mille motivi sono stati fatti nelle ultime decadi in queste malattie anche di studi scientifici inevitabilmente sono studi pochi con una casistica con un numero di pazienti spesso non tale da poter poi estrapolare conclusioni eccezionali. Se andiamo a vedere infatti cosa produce la letteratura scientifica sulle caratteristiche dell'epilessia nelle malattie mitocondriali vedete che abbiamo fondamentalmente due soltanto riduttivo però abbiamo due grossi studi lo studio condotto dai dal centro eh dell'università di Newcastle in Inghilterra che vedete qui sulla sinistra e poi anche lo studio del network italiano a cui facevo eh riferimento all'inizio sapete penso no che tutti i centri mitocondriali italiani sono in rete all'interno di un network condividiamo informazioni e cerchiamo di dare il nostro contributo per capire meglio eh tanti aspetti delle malattie mitocondriali tra cui l'epilessia mitocondriale. Mi scuso c'ho solo tre diapositive in inglese che non ho avuto il tempo di tradurre tutto il resto come avete visto l'ho tradotto ma tre abbiate pazienza oggi ero in viaggio eh come sapete c'è stata un'importante conferenza stampa a Roma quindi mi vogliate perdonare ma sono solo tre se non ricordo male le diapositive in inglese. Lo studio eh inglese fa vedere che loro hanno studiato su tra virgolette soltanto 82 malati mitocondriali adulti quindi qui si parla di giovani adolescenti sopra i anni ma soprattutto popolazioni adulte vedete che in Inghilterra il ventitré per cento di questi centottantadue pazienti soffrivano di epilessia e anche qui come anticipavo prima alcuni geni per esempio il gene OPA1 o il gene P1 che sarebbe il twinkle questi geni non fa se io ho la malattia mitocondriale perché ho l'alterazione in questi geni non avrò mai l'epilessia come manifestazione clinica se invece avrò le mutazioni quelle più classiche quelle della melas la 32 43 oppure l'83 44 vedete che se io ho queste due mutazioni nel 35 per cento dei pazienti con la mutazione 32 43 svilupperò epilessia addirittura nel 92 per cento dei pazienti con la mutazione 83 44 quella merf primo poi nella storia naturale comparirà l'epilessia per dire due parole un po' di più invece su su come siamo in italia noi avevamo fatto uno studio vedete su quasi 1500 pazienti con malattia mitocondriale complessivamente l'impatto di epilessia nella popolazione dei malati mitocondriali in italia vedete del 10 per cento quindi su su 1500 pazienti che vengono seguiti in italia questo studio di qualche anno fa quindi i numeri sono un po' diversi ormai però vedete che nel 10 per cento dei casi compare epilessia nel 47 per cento dei casi cioè in un malato su due l'epilessia è la manifestazione di esordio della malattia mitocondriale quindi la malattia viene scoperta perché inizia il bambino l'adulto ad avere crisi epilettiche vedete che l'età mediana di esordio e di 19 anni però noi nel nostro registro come come ovvio che sia questa è l'età mediana ma il range di malati con epilessia mitocondriale vedete va dai primi dalle prime settimane di vita fino anche 68 anni è chiaro che il nostro studio aveva dimostrato tante cose su cui non ho tempo di entrare però sono disposto a parlarne dopo sicuramente più precocemente compare nell'età anagrafica l'epilessia tanto più alta è la probabilità purtroppo che le crisi ritornino e che possano anche diventare di diverso tipo di diversa manifestazione quindi sicuramente quanto più precoce è la comparsa di epilessia nel paziente con malattia mitocondriale è tanto più elevato il rischio che quel paziente sia esso un bambino sia esso un adolescente un adulto si continui a fare nella sua vita anagrafica altre crisi epilettiche e spesso i tipi di crisi che possono comparire possono essere più di uno anche per noi italiani come malati italiani sicuramente quelle che la fanno un po' da padrone come frequenza sono sicuramente le mutazioni della cosiddetta melas la 3243 la mutazione cosiddetta merferl 83 44 e le mutazioni nel gene polgamma la melas sapete che è una sindrome estremamente complessa dove compaiono anche degli episodi tipo ictus ci sono tutta una serie di problemi di cuore di diabete di sordicità e comunque l'epilessia vedete compare in 70 96 per cento dei malati che hanno la sindrome melas quindi è sicuramente un problema molto presente nei malati che hanno la sindrome la sindrome melas il malato con la melas può fare le crisi generalizzate quindi le classiche per intenderci convulsioni con perdita di conoscenza ma sono possibili anche altri tipi di crisi epilettiche nella melas le crisi cosiddette focali per esempio il movimento incontrollato a un braccio a un emicorpo le crisi del lobo occipitale il lobo occipitale è quella parte del cervello dove ci sono le aree visive molti pazienti hanno crisi epilettiche che si manifestano con disturbi visivi tipo allucinazioni vengono scambiate spesso per allucinazioni quindi sicuramente un problema che con gli episodi stroke like rappresenta una delle maggiori invalidità che accompagnano purtroppo la vita di chi ha una sindrome melas così come la merf la merf è molto più rara per fortuna ma è altrettanto aggressiva ci abbiamo un'epilessia spesso farmacoresistente che si associa a disturbi muscolari alla disturbi dell'udito a disturbi del battito cardiaco spesso questi malati hanno degli elementi caratteristici che sono i lipomi c'è l'accumulo di queste palle di grasso a livello sottocutanea anche qui nella merf purtroppo l'epilessia è una manifestazione molto aggressiva di diverso tipo possiamo avere diversi tipi di crisi epilettiche non entro nel merito perché non è il termine tecnico qui quello che dobbiamo discutere così come il pol gamma è un gene che ahimè è molto comune anche in italia come come malattie purtroppo spesso i soggetti che hanno mutazioni nel gene della polimerasi gamma sviluppano un'epilessia estremamente complicata da trattare spesso addirittura incurabile e che evolve in quello che noi chiamiamo nello stato di male epilettico che è potenzialmente estremamente pericoloso per la sopravvivenza del nostro malato e anche per l'integrità dell'integrità dell'encefalo nel nostro malato. Quindi sicuramente lo spettro sia genetico che di manifestazione è estremamente variabile. Al netto di questo cosa abbiamo fatto in questi anni per gestire l'epilessia mitocondriale. Sicuramente è un problema comune come ho detto vi ho fatto vedere qualche numero può essere il primo segno di esordio di malattia mitocondriale può essere l'unico ci sono pazienti che hanno solo le manifestazioni epilettiche molte volte invece la crisi epilettica è solo uno dei tanti problemi dei tanti segni sintomi che il malato ha e la gestione delle crisi epilettiche nei nostri malati mitocondriali è qualcosa che richiede rapido intervento aggressività e vedremo strada facendo in questo mio seminario anche una personalizzazione della cura. Non esiste il farmaco ideale non esisterà mai ma questo vale non solo per l'epilessia nel malato mitocondriale ma vale per moltissime altre malattie in cui l'epilessia è la drammatica manifestazione clinica. Noi sappiamo che abbiamo un armamentario di farmaci che abbiamo preso mutuato diciamo così dagli epilettologi in senso lato che sono estremamente maneggevoli sicuri nelle malattie mitocondriali. Molti di voi hanno esperienza con le benzodiazepine anche con le somministrazioni rettali delle benzodiazepine ma sapete che abbiamo tutta un'altra serie di farmaci che vedete qui elencato in particolare il levetiracetam che è molto efficace si usa molto nell'epilessia mitocondriale uno dei nomi commerciali il chepra per intenderci. L'alamotrigina altro farmaco estremamente efficace nell'epilessia in generale ma quando funziona funziona bene anche nei malati con patologie mitocondriali anche l'alacosamide un farmaco estremamente sicuro maneggevole e che funziona bene spesso nelle malattie mitocondriali. Sappiamo abbiamo imparato purtroppo che in alcune malattie mitocondriali l'acido valproico quindi il DEPACHIN per intenderci uno dei farmaci più famosi antiepilettici tra i più antichi tra i migliori farmaci antiepilettici al mondo c'è però un grosso problema nell'utilizzare il DEPACHIN l'acido valproico nei pazienti con mutazione del gene polimerasi gamma in questi pazienti purtroppo negli anni che questo non si sapeva abbiamo visto numerosissime condizioni per cui l'assunzione di DEPACHIN ha portato a un'epatita un danno del fegato gravissimo spesso irreversibile potenzialmente anche mortale. Quindi l'acido valproico è uno di quei pochissimi farmaci su cui c'è veramente l'allerta rossa delle malattie mitocondriali ma mi raccomando e ritorneremo su questo più avanti l'allerta rossa è soprattutto per quanto riguarda il malato che ha una mutazione del gene pol G. Nelle altre malattie mitocondriali in cui i vari farmaci che noi proviamo non funzionano allora se io ho una malattia mitocondriali in cui il pol G è sano, se io ho quel paziente in cui non ho problemi di fegato, allora l'acido valproico come arma di riserva può essere provato e l'esperienza dice che in questi malati bisogna naturalmente monitorare la funzione epatica, bisogna monitorare tutto, però in quei casi farmacoresistenti in cui il gene mutato non è pol G, in cui non è presente già una sofferenza epatica nel bambino o nell'adulto, allora in questi casi, solo in questi casi, se gli altri farmaci non funzionano l'acido valproico può essere un'ottima opzione. Mi sembra di ricordare l'ultimo webinar che feci con voi, si parlò anche di dieta chetogenica soprattutto nei bambini, soprattutto in alcune forme di encefalopatia epilettogena mitocondriale. La dieta chetogenica è molto dibattuta, allora in generale sapete che può essere utile e ha molte applicazioni in generale in medicina e nella gestione delle epilessie problematiche. La dieta chetogenica è uno dei problemi delle malattie mitocondriali, però non abbiamo dati così forti e convincenti che possa essere la panacea dei problemi del bambino con epilessia mitocondriale. Purtroppo uno dei tanti problemi che abbiamo nel gestire queste malattie è che essendo malattie rare, essendo malattie che per anni non hanno visto grossi studi epidemiologici, non abbiamo grossi dati di partenza su cui ragionare, non esistono trial clinici di nessuna natura dell'utilizzo anche del banale levetiracetam, per non parlare del Keppra e della Lamotrigina, ma anche del Depa, che nessuno ha mai fatto trial clinici nell'epilessia mitocondriale per capire come funzionano questi farmaci e se sono pericolosi e se sono dannosi, eccetera eccetera. Quindi molte delle cose che si leggono in giro sono basate non su dati scientifici consolidati, quindi di fidare troppo da quello che si legge nella rete perché se ci sono studi ben condotti eccetera eccetera sarà la commissione scientifica di Mitocon, saranno i medici che lavorano nel network italiano a fare le giuste i giusti comunicati che manderemo a Mitocon e Mitocon inoltrerà tramite i suoi canali a tutte le famiglie. Quindi non mandate a trovare il farmaco o la soluzione nel primo blog che trovate in internet perché non c'è assolutamente niente di vero su queste conclusioni che potete leggere. Così come non sappiamo se la chirurgia dell'epilessia o per esempio l'utilizzo dello stimolatore del nervo vago che è una specie di stimolatore che va a dare impulsi su questo nervo che in alcune forme di epilessia è dimostrato funzionare, non sappiamo perché non c'è casistica, non ci sono studi controllati, non sappiamo quale può essere il suo reale impatto. Però di tutte queste cose che vi sto dicendo io, una cosa è dire non sappiamo, una cosa è dire è pericoloso farlo, questo farmaco è pericoloso, questo farmaco non va utilizzato nelle malattie mitocondriali. Se avete notato non ho mai detto questo, tornerò tra un pochino su questo aspetto, tutto ciò che non è dimostrato, noi non possiamo dire è sicuramente efficace nella malattia mitocondriale. Quello che noi dobbiamo cominciare a poter dire in sicurezza che il trattamento X, il trattamento Y non è pericoloso nel malato mitocondriale, successivamente dobbiamo trovare la gestione terapeutica migliore e questo sarà compito del gruppo di lavoro a cui ho fatto scena all'inizio e di cui brevemente vi parlo tra qualche minuto. Ricorderete sicuramente ne avete sentito parlare proprio per far fronte a questa cattiva informazione che circolava senza senza freni in rete dove praticamente negli anni 2000 e 2010 trovavate che qualsiasi medicina dalla tachipirina alla aspirina per passare agli antibiotici a questo e a quell'altro erano tossici per i mitocondri, intossicavano i pazienti mitocondriali ed erano controindicati nei malati mitocondriali. Quindi questo aveva creato un ginepraio di disinformazione che finché il malato era seguito in un centro di riferimento che era abituato a gestire i vari aspetti della malattia mitocondriale ed era abituato a usare i farmaci in questi pazienti e noi c'entravano una parte e ci usciva dall'altra quello che veniva scritto nella nel web. Il problema è che tanti di voi, tanti malati si possono trovare in condizioni per vacanza, per lavoro, perché semplicemente vivono in un posto lontano da un centro di riferimento per le malattie mitocondriali, quindi vi potevate trovare in situazioni in cui avevate bisogno di ricorrere dal medico di famiglia, alla guardia medica, al pronto soccorso e lì se uno si metteva a guardare su internet qualsiasi farmaco la gente alzava le mani e diceva no ma io tu hai una malattia mitocondriale, io non so se ti posso dare il farmaco X o il farmaco Y. E lì proprio per ovviare a questo questa campagna di disinformazione che poi oggi con la rete è facile crearla, avevamo fatto un gruppo di lavoro, Europa e Stati Uniti, su cui ovviamente per motivi di tempo non torno, dove vedete Mitocon era uno dei dei coorganizzatori, avevamo fatto un lavoro scientifico basato sull'evidenza e poi successivamente le nuove tabelle che adesso hanno preso posto alle vecchie tabelle disinformative che circolavano e su questo devo dire Mitocon è stato un elemento propulsore importante. Quindi ad oggi il problema è che noi non abbiamo una linea guida per questa epilessia mitocondriale. Tutti noi lavoriamo, facciamo chi i neurologi, chi i pediatri, chi i neuropediatri, tutti noi siamo abituati a gestire l'epilessia in generale. Ma non c'è mai stato ad oggi nessuno studio, nessuna linea guida che avesse messo nero su bianco, scusate, qual è la gestione ottimale dell'epilessia nei bambini e negli adulti con malattia mitocondriale. Questo è il punto di partenza. Allora cosa abbiamo pensato, non so voi quanto le conoscete, però a livello europeo si sono create già dal 2017, si sono create queste reti europee delle malattie rare sotto spinta e finanziamento della Commissione Europea. Tra queste reti delle malattie rare c'è una rete che è una rete che si occupa principalmente delle malattie neuromuscolari ma che al cui interno ha il gruppo di lavoro per le malattie mitocondriali. In questa rete partecipano anche le associazioni dei pazienti, non solo mitocon ma tutte le equivalenti di mitocon degli altri paesi europei e si era venuto a creare un tavolo di lavoro e di discussione l'anno scorso di questi tempi, se non ricordo male, in cui era emersa tra le varie criticità sollevate dai pazienti ma condivise dalla comunità medica italiana ed europea che non esisteva un modo di trattare, di gestire il problema dell'epilessia nelle malattie mitocondriali. Allora cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di fare quello che vi fa vedere adesso questa quest'altra diapositiva. Quindi abbiamo messo in campo le risorse penso migliori che le reti europee delle malattie rare quindi quelle che si occupano di epilessia rara tra cui mitocondriale, la rete delle malattie neuromuscolari con le malattie mitocondriali, la rete delle malattie neurologiche rare, la rete europea di tutte le malattie metaboliche. Abbiamo insieme in collaborazione con Mitocon e Lilly Foundation dell'Inghilterra deciso di portare, di sviluppare questo questo percorso, questa questa normativa che vada a fare chiarezza per la gestione dell'epilessia mitocondriale sia nel bambino che nell'adulto. Abbiamo chiaramente hai bisogno di soldi per fare queste cose, abbiamo fatto, abbiamo partecipato a un bando europeo di questa European Joint Programme per le malattie rare che l'abbiamo vinto, quindi abbiamo avuto il finanziamento per poter fare questa operazione che vi illustro brevemente, che ha comportato un enorme molo di lavoro che ha coinvolto venticinque esperti europei di malattie mitocondriale, di epilessia con esperienza sia nei bambini che nell'adulto. Questo è il gruppo di lavoro, lo vedete fotografato, è stata la foto della parte dell'incontro che abbiamo avuto dal vivo, da qualche parte, accanto a me c'è Serena, qui potete riconoscere altri amici di Mitocon, c'è la professoressa Servidei con il cursore, c'è la dottoressa Lamperti dell'Istituto Besta, la dottoressa Ardissone dell'Istituto Besta, quindi l'Italia era abbondante me e c'ero anch'io naturalmente come coordinatore della rete europea delle malattie mitocondriali, ero io il coordinatore dell'iniziativa. E quindi abbiamo avuto tutti questi esperti riuniti. Vi dicevo tutto nasceva più o meno in questo periodo storico e il lavoro si è sviluppato secondo una metodologia molto rigida, perché naturalmente noi cosa volevamo fare? Vogliamo produrre le migliori raccomandazioni possibili a livello europeo sulla gestione dell'epilessia nel bambino e nell'adulto con malattia mitocondriale. Quindi per poter fare questo tu devi chiaramente fare un lavoro metodologico fatto bene. Come dire, devi essere intaccabile nella tua metodologia per poter poi convincere i revisori che dovranno valutare il tuo lavoro che quello che dici è frutto di una metodologia corretta e inattaccabile. Per cui abbiamo fatto quello credetemi tantissime riunioni su Zoom all'inizio. Nella prima abbiamo riunito tutti gli esperti per discutere il problema, capire se c'era una comunione in intenti, se tutti noi volevamo affrontare e provare a risolvere il problema della gestione terapeutica dell'epilessia nelle malattie mitocondriali, una volta preso atto di questo e chiaramente l'iniziativa ha raccolto l'adesione di tutti i più grossi nomi di epilessia e di malattie mitocondriali europei del bambino e dell'adulto, abbiamo dovuto cominciare a impostare il lavoro. È chiaro che partendo da zero non si può pensare di scrivere la Bibbia. Noi abbiamo dovuto identificare delle priorità partendo da i temi e i farmaci e i trattamenti che volevamo approfondire, capire cosa ci dice la letteratura scientifica, l'esperienza di vita quotidiana riguarda questi trattamenti nei bambini e negli adulti con epilessia mitocondriale e da questo background impostare il lavoro. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo seguito, quando vi dico questa è l'unica diapositiva un po' tecnica che però è solo per dirvi che per essere metodologicamente attento devi seguire quello che gli esperti ti dicono e ci sono diverse linee guida europee che ti dicono come scrivere una linea guida per una malattia rara e stiamo parlando di malattie mitocondriali, malattie rare. Quindi la metodologia che noi abbiamo applicato è quella che viene richiesta dall'Accademia Europea di Neurologia ma anche da altre istituzioni e la parte poi, come posso dire, consentitemi, divertente perché poi il momento in cui ti confronti senza peli sulla lingua con i tuoi colleghi italiani e stranieri è quello di applicare alla fine quello che la letteratura scientifica chiama il metodo Delfi. Il metodo Delfi è questa tecnica di comunicazione strutturata che praticamente viene creata, è stata creata per poter in qualche maniera fare lavorare un gruppo di esperti che pensano e agiscono individualmente in modo che possano convergere verso una verità comune. Delfi, vi ricorderete qualcuno di voi dagli studi dei licei, era l'oracolo di Delfi, no? Era Fitia che all'epoca, nell'antichità, era la voce, era il verbo, quello che diceva, che diceva l'oracolo di Delfi, non andava spiegato, dice l'ha detto lui e così, punto e basta. Il problema è che questo in medicina e in scienza non lo puoi fare, cioè non è che quello che dico io, che dice Mancuso necessariamente è vero, lo devi provare, lo devi dimostrare, devi essere inattaccabile se vuoi portare avanti alcune considerazioni, alcune opinioni. Ed ecco che quando lavori in un mondo in cui non ci sono linee guida, ci sono pochi dati scientifici, il metodo Delfi mette insieme l'intelligenza migliore che per quel gruppo di interesse può essere presente in quel determinato momento storico e si basa proprio dal presupposto che il giudizio di gruppo, che viene fuori da una riunione secondo un certo modo di impostarla, questo giudizio alla fine è più valido del singolo giudizio che il singolo Mancuso di turno potrebbe propinarvi. Quindi da una parte il metodo Delfi era un'imposizione perché la parola è sempre giusta, in medicina così non va, come vi ho spiegato, quindi noi dobbiamo spiegare e convincere che quello che diciamo noi è vero. E per poter far questo c'è una metodologia estremamente complessa che non vi sto a dire, diversi passaggi, in particolare diverse votazioni che sono sempre condotte in maniera anonima, vengono formulate tutta una serie di domande, di suggerimenti, di indicazioni, dopodiché in maniera anonima ciascun'esperta risponde e vota secondo quello che pensa all'inizio. E man mano che i risultati all'inizio cosa succederà? Che ne so, la prima medicina che mi viene in mente, l'acido valproico si può utilizzare in Poggi, allora tutti noi diremmo di no ed è troppo facile, ma prendiamo un altro farmaco, vediamo l'evetiracita, allora magari non tutti hanno esperienza con i bambini, non tutti hanno esperienza con gli adulti, non tutti si occupano, oppure essendo i più grossi esperti di malattie mitocondrali, non si occupano di epilessia. Quindi può darsi che all'inizio le risposte che acquisiamo dai vari esperti non vadano tutte nella stessa direzione. Allora, le domande formulate su cui non c'è comunione di intenti vengono poi discusse dal vivo, portando a quel punto in visione gli elementi a supporto di quella domanda, di quella frase, di quella sentenza che vorremmo far approvare al gruppo, spiegando perché è così, facendo vedere la letteratura scientifica, discutendone, e quindi eventualmente riboterai sempre in maniera anonima quelle domande che prima non avevano raggiunto in unanimità. E di solito andando avanti attraverso questi circuiti, progressivamente la gamma delle risposte che ciascun esperto darà tenderà a diminuire e il gruppo tenderà a convergere verso la risposta corretta. Quindi i primi punti che noi volevamo affrontare erano l'utilizzo in sicurezza di X farmaci nei malati mitocondriali, cioè posso ragionevolmente dire che questo farmaco lo posso utilizzare senza problemi nelle malattie mitocondriali. Una volta che siamo sicuri che un tot di farmaci è sicuro nei nostri bambini e nei nostri adulti, allora dobbiamo capire qual è il modo migliore per trattare le crisi epilettiche e lo stato di male epilettico nei bambini e negli adulti. Mi sono scordati di dire, noi per quando parliamo di bambini parliamo sempre di bambini sopra i 28 giorni di età. Qui vedete già in anteprima sono le 27 diverse, vedete sono tantissimi i farmaci che gli esperti hanno identificato come prioritari per le linee guida che stiamo sviluppando. Vedete che i vari esperti sono stati suddivisi in cinque gruppi, ogni gruppo è fatto da quattro o cinque esperti e ogni gruppo doveva andare a studiare quattro o cinque trattamenti nelle malattie mitocondriali. La metodologia, questa è l'altra in inglese che però non è per noi importante così oggi nel webinar, ma è cruciale perché ci siamo dovuti fare un mazzo pazzesco perché abbiamo dovuto studiare tantissimo per ciascun farmaco. Vedete abbiamo dovuto vedere il meccanismo d'azione, se era documentata in vitro piuttosto che in vivo la tossicità mitocondriale, se erano pubblicati casi clinici o casistiche con l'utilizzo di quella determinata molecola nel bambino oppure nell'adulto con epilessia mitocondriale, se c'erano stati trial clinici e tutto questo ovviamente immaginate sono 27 diverse trattamento per ognuno di questi 27 farmaci perché erano 25 farmaci più la dieta chetogenica e la stimolazione del nervo vago. Quindi immaginate la mole di lavoro che abbiamo fatto per circa cinque mesi. Abbiamo preso sicuramente anche il vantaggio che alcune farmaci antepilettici erano già stati ben studiati in questo sforzo internazionale del 2019, però vi assicuro che è stato tantissimo lavoro. A quel punto le domande di base che ci siamo posti è è sicuro utilizzare la molecola X nel bambino mitocondriale? È sicuro utilizzare la molecola X nell'adulto con epilessia mitocondriale? Queste sono le domande di partenza. Queste domande sono state sottoposte in maniera online con una piattaforma per studi a tutti e venticinque gli esperti. Tutti hanno risposto. Per alcuni farmaci non c'era, come era giusto che fosse, una certezza per cui per tutti questi farmaci abbiamo fatto poi tre giorni di riunione dal vivo a Budapest dove tutti i farmaci che non avevano raggiunto la certezza di sicurezza nei malati mitocondriali sono stati singolarmente spiegati a tutti gli esperti, sono stati presentati tutti gli studi clinici disponibili, tutte le evidenze di laboratorio disponibili e quindi tutti questi farmaci hanno potuto essere sviscerati uno per uno e ridiscussi e rivotati dagli esperti e poi nella fase 2 una volta preso atto che i farmaci X, Y, Z sono farmaci che si possono utilizzare nei malati mitocondriali senza problemi e quando dico senza problemi vuol dire con le stesse controindicazioni, con gli stessi effetti indesiderati che possono comparire anche i malati non mitocondriali, chiaro non esiste il farmaco al cento per cento sicuro, privo di effetti colaterali, però il rischio di quel determinato farmaco è paritario sia che io sia un malato mitocondriale sia che io abbia un'epilessia di altra natura, quindi io te lo posso dare in sicurezza quel farmaco. La parte dal vivo si è tenuta a fine giugno di quest'anno per farvi capire anche la voglia di tutti gli esperti di arrivare rapidamente alla pubblicazione, alla divulgazione dei dati. Durante l'estate abbiamo continuato a lavorare, il lavoro in questo momento è già praticamente chiuso, la revisione tra gli esperti si concluderà il prossimo 28 settembre, successivamente contiamo di poter spedire il lavoro scientifico fuori e per revisione, sapete che per poter pubblicare certi tipi di conclusioni devi sottomettere il tuo lavoro e esperti anonimi lo giudicheranno. Posso anticipare che per quasi tutti i farmaci di cui abbiamo parlato non esistono controindicazioni assolute per i pazienti mitocondriali, l'unica eccezione, vi ricordo, è l'acido valproico per quanto riguarda il gene polgamma mutato e alcune precauzioni vanno utilizzate nell'utilizzo del topiramato, ma solo perché è un farmaco che tu abbia o non abbia una malattia mitocondriale, in generale il topiramato può far aumentare l'acido lattico, quindi in pazienti mitocondriali che sono a rischio di acidosi lattica, l'utilizzo del topiramato va fatto con il monitoraggio di questi parametri imatici. Quello che vi dicevo prima, tutti i farmaci possono avere gli effetti collaterali, che però saranno esattamente quelli che possono comparire anche nei pazienti non mitocondriali, quindi non esiste il farmaco sicuro, la carbamazepina, il tegretol per dine 1, in alcuni pazienti che siano mitocondriali oppure no può dare sonnolenza, può dare vertigini, può dare disequilibrio, ma questo come lo può dare ai pazienti con malattia mitocondriale? Lo può dare ai pazienti che non hanno una malattia mitocondriale, cioè avere la malattia mitocondriale non mi elimina gli effetti collaterali da farmaci, che saranno gli stessi che potranno avere anche i pazienti non mitocondriali. Questa è un'altra cosa da tenere a mente. Il nostro lavoro ha ahimè dimostrato come in letteratura non è mai stato fatto uno studio controllato, un trial clinico per testare ogni singolo farmaco antipilettico nelle malattie mitocondriali. Quindi nessuno ad oggi può dire che il farmaco A piuttosto che il farmaco B è il farmaco di prima scelta nelle malattie mitocondriali, ma è anche vero che esistono le linee guida delle grosse società internazionali di epilessia che studiano molto bene le varie manifestazioni di epilessia e che possono essere un buon punto di partenza, e lo vedrete spero tra qualche settimana, non lo posso purtroppo anticipare per motivi che ancora non sono dati ufficiali, conclusivi ed approvati dalla comunità scientifica internazionale, però sicuramente il nostro lavoro, vedete, è a buon punto, contiamo di pubblicare le linee guida tra, io sono ottimista di natura, ma conto che prima di Natale queste siano pubblicate, conto che venga rapidamente, appena il lavoro è pubblicato, immediatamente prodotta una versione, come si può dire, divulgativa per i pazienti o comunque per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta, per i non esperti ai lavori mitocondriali, prepareremo immediatamente una versione, che inizialmente sarà giocoforso in inglese e verrà pubblicata sulla pagina di IMP, però immediatamente con l'aiuto di Mitocon, è un impegno che mi sono preso sin dal primo giorno parlando con Mitocon, abbiamo la fortuna che erano presenti diversi italiani in questo consorzio di esperti, immediatamente elaboreremo la versione in italiana, che verrà poi pubblicata sul sito Mitocon, è un Mitocon distribuita secondo le modalità che poi deciderete, avrete il nostro assoluto supporto. L'idea finale è quella che possiate avere delle semplici tabelle, delle semplici figure che stanno sul vostro cellulare in maniera tale che se vi trovate a dover gestire le crisi epilettiche e non avete con voi il mitocondriologo presente, in queste figure, in queste tabelle ci sarà scritto se io ho questo tipo di crisi epilettica, primo farmaco da provare è questo, se questo non funziona prova quello, se quello non funziona prova quello, sarà tutto messo proprio in semplici figure in italiano, divulgative, in maniera tale che lo fate vedere al primo medico che vi trovate davanti e lui si potrà comportare di conseguenza. Quindi per concludere, il problema dell'epilessia mitocondriale è sicuramente un problema che incide tantissimo, quasi un paziente su due ha epilessia, la maggior parte dei pazienti fanno più crisi e che spesso sono anche difficili come farmaci da trattare, non si sa, ci sono tanti enigmi nel mondo dell'epilessia mitocondriale che continueremo a studiare perché più risolvi gli enigmi più trovi farmaci incisivi. Di sicuro la gestione e il trattamento dell'epilessia deve essere fatta sapendo bene che il malato di fronte ha una patologia mitocondriale, sapendo che alcuni farmaci sono più sicuri, altri da monitorare di più, ma con il lavoro che stiamo portando avanti che mi auguro entro la fine dell'anno sarà disponibile per la scienza, per i medici e per i pazienti, potremmo avere delle raccomandazioni concrete, semplici, che vi potete portare avanti e distribuire, utilizzare come meglio credete. Questo è chiaramente frutto di uno sforzo incredibile come vi potete immaginare. Mitocon l'ha fatta sempre da padrone, è sempre molto attenta a lavorare con i medici a livello nazionale, ma anche come avete visto a livello internazionale, senza l'aiuto di voi, associazioni di pazienti, l'input a fare questa linea guida sull'epilessia nelle malattie mitocondriali non so se l'avremmo avuto, magari sì, ma voi ci avete preso per i capelli e nel giro di meno di 12 mesi siamo riusciti a fare un lavoro che finora nessuno a livello di comunità medica internazionale aveva mai fatto.